buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi video brevissimo giusto una piccola anticipazione di quello che vedremo a settembre sul canale agosto ho rallentato un attimino con la pubblicazione dei video perché tanto sarebbero andati persi la gente giustamente in vacanza però a settembre riprendiamo con alcune chicche davvero interessanti partiamo dai dischi allora mi ha contattato l'officine razzi un'azienda italiana completamente italiana e mi ha mandato in test due dischi veramente particolari unici abbiamo il carosello che è indicato per pulire tra una pianta e l'altra senza rovinare il tronco della pianta su cui andiamo a sbattere e ragazzi lavora con fili da sei anche questa deve essere veramente una cosa molto interessante ma soprattutto il fatto che non tocca le piante a me piace molto abbiamo la g cut che è una testina da sfalcio che promette di avere un'ottima resa e un montaggio veloce del filo mentre si lavora non ho ancora tirata fuori poi la tiriamo fuori durante l'articolo e dopo aver provato le forbici a batteria lo stesso produttore mi ha mandato gentilmente in test una mini elettrosega manuale io questa era un annetto che ci stavo dietro è perché vedrete l'utilità di una terzina del genere quando non si vuole accendere la motosega che non ce n'è bisogno bisogna tagliare tronchi di un certo diametro e casualmente mi è caduto un ramo grosso nei giorni scorsi con la tempesta che c'è stata quindi l'ho conservato non l'ho tagliato e useremo proprio questa qui questa è un elettrosega batteria vedremo ancora durante il mese di settembre ve lo lascio qui in sovrimpressione l'installazione della videocamera alle mie galline nel pollaio giusto per stalkerarle un po la sera la trovo utile perché in alcuni momenti mi serve per vedere alcune cose poi vi spiegherò durante il video e se riesco ma su questo ci tengo particolarmente vediamo il proseguo del discorso di quanto sporca il nocciolino in una caldaia pellet pulendo la caldaia pellet che in questo momento va a nocciolino dopo qualche mese di lavoro bene dai è tutto è stato un video breve solo una piccola presentazione sarà un settembre molto interessante speriamo di ricominciare a lavorare bene con i vari fornitori con i vari produttori sono molto contento quando mi contattano e mi mandano in testa della roba non sono pagato per fare queste recensioni e i sample sono a disposizione di chi me li ha mandati per riprendersi le meno non interessa insomma se mi interessa qualcosa chiedo e lo pago eventualmente lo compro quindi visto che non ho grossi interessi a dovervi vendere qualcosa ecco spero che possiate apprezzare un attimino la bontà insomma e l'onestà delle recensioni detto questo vi saluto e ci vediamo nei prossimi giorni proprio con queste recensioni qua